Durante la pandemia da Covid-19 sono aumentati i campi di padel addirittura del 125 per cento perché tanta passione per questo sport? Beh sicuramente perché il padel è uno sport semplice e nonostante le numerose analogie con il tennis e nonostante io sia di parte in quanto vengo dal tennis c'è da dire che il padel è uno sport dove iniziare è sicuramente più agevole nel tennis infatti nelle fasi iniziali risulta molto più difficile imparare e ovviamente questo è influenzato da diversi fattori come ad esempio l'età o le capacità di apprendimento che sono strettamente personali. Comunque nel tennis passano settimane prima di potersi avvicinare a qualcosa di simile che sia un match. Credo che questo sia dovuto principalmente al fatto che i campi sono più piccoli, la racchetta nel padel è molto più vicina alla mano quindi risulta sicuramente più maleggevole rispetto al tennis e altro aspetto da considerare è che nel padel tutto si svolge in pochi metri per cui il movimento risulta circoscritto in brevi scatti e con un dispendio fisico minore. Questo ci porta sicuramente a dire che nel padel tutti possono competere. Ovviamente stiamo parlando di atleti amatori e non di professionisti dove il discorso è del tutto diverso. Questi atleti amatori come possono prepararsi al meglio per migliorare anche se nel loro piccolo la prestazione? Beh per iniziare sicuramente oltre a fare lezioni di padel con il maestro sarà fondamentale fare delle preparazioni fisiche che appunto vadano a migliorare quelle che sono le capacità sia organico muscolari che coordinative specifiche e generali. Sicuramente per iniziare sarà importante fare 10-15 minuti di esercizi di attivazione muscolare e anche di mobilità articolare principalmente avendo attenzione su quello che è il complesso articolare della spalla. Gli esercizi con l'elastico ad esempio rappresentano un'ottima metodica di attivazione muscolare da fare sempre in maniera bilaterale. Poi una parte centrale di allenamento che a seconda della programmazione annuale vada nello specifico a migliorare una delle capacità condizionali. Nella parte centrale di allenamento bisognerà quindi lavorare sia in campo con esercizi volti a migliorare quelle che sono le capacità tecniche del tennis sia fuori dal campo per migliorare quelle che sono le capacità condizionali quali forza, velocità, mobilità articolare e resistenza. Nella parte finale invece di un allenamento sarà fondamentale dedicare 10 minuti al defaticamento con esercizi di allungamento muscolare sia attivo che passivo. Quali sono i benefici per la salute? È uno sport che aiuta tanto la mente ad ammortizzare quello che è lo stress che si accumula durante la giornata. Molti, soprattutto andando a giocare spesso e parlando spesso con persone che giocano, mi raccontano proprio questa cosa che il padel è proprio un aiuto per tutto lo stress fisico e psichico accumulato.